Un caloroso benvenuto a tutti per il consueto appuntamento per il concerto per Teleton. È ormai una tradizione per il coro Nuove Armonie che per quest'anno è fatto all'ottava edizione del concerto per Teleton e per la prima volta e per la prima occasione è ospitato qui presso un fuoco di San Lorenzo e quindi fin dall'inizio vogliamo ringraziare Don Antonio per l'ospitalità per questo evento. Prima di introdurre il programma del pomeriggio presentiamo innanzitutto il coro che vediamo di rappresentato il coro di voce bianca e nuove armonie e dirige il coro la maestra Chiara Mario e l'accompagnamento al pianoforte sarà della maestra di San Paolo. Il programma vedrà sul servizio di pezzi eseguiti dal coro e alcuni eseguiti poi dall'orchestra d'arti e alcuni brani eseguiti in abbinata dalle due realtà. Iniziamo con le prezzi eseguiti dal coro e sono i tre e due brani uniti diciamo di autori recenti l'altro invece è un antico canto poemo quindi inizieremo con Ave Maria di Berando di naso eseguita dall'antico canto poemo Inocano. Buon ascolto!